Buongiorno, bentrovati a mattino 6 di venerdì 4 settembre 2015, la nostra consueta rassegna stampa che noi apriamo con la lettura delle pagine del centro edizione di Pescara, poi andremo a sfogliare anche e a vedere le prime pagine delle altre edizioni del quotidiano d'Abruzzo, poi proseguiremo con il messaggero. Allora apriamo con il centro edizione di Pescara per andare a vedere insieme quali sono i titoli della prima pagina che sono trattati proprio nell'edizione pescarese del centro. Ecco qui Mare Sporcolite in Consiglio, ovviamente non poteva che essere questo il titolo principale perché ieri pomeriggio c'è stato il Consiglio Comunale straordinario proprio per affrontare questa tematica bagarre. Sulle magliette contro Alessandrini la seduta salta, ci sono state due sospensioni del Consiglio Comunale che è poi saltato. Fotopagina che riguarda il Pescara, quella di ieri è stata una giornata importante anche per la formazione bianca-azzurra perché nella sala stampa dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia sono stati presentati i 14 nuovi acquisti del Pescara, in particolare riflettori puntati su Ugo Campagnaro che vedete al centro di questa foto, al fianco di Benali e Cocco, altri due acquisti di spessore del Pescara. Ovviamente grande spazio all'ex difensore dell'Inter, 35enne, che ha accettato questa nuova scommessa e ha firmato ieri mattina un contratto con la formazione bianca-azzurra. Vi preannuncio che nell'ultima parte di mattino 6 ascolteremo proprio, vedremo l'intervista realizzata con Ugo Campagnaro, davvero molto motivato alla vigilia di questa nuova avventura in Italia. Da 13 anni Campagnaro gioca nel campionato del nostro paese, prima con il Piacenza, poi il Napoli e poi l'Inter, tra l'altro convocato anche nella nazionale argentina nei mondiali del 2014. Allora, torniamo a vedere la prima pagina del centro per vedere anche gli altri titoli dell'edizione di Pescara, accoltellata per gelosia, aggredita sulle scale dal compagno, salvata dai vicini, accaduto a Montesilvano. E poi nelle cronache, Rogo devasta 30 ettari, case a rischio, è accaduto in contrada Sant'Elia di Caramanico, poi l'inchiesta su Mattucci, ricorderete questa vicenda proprio di poche ore fa, libri contabili spariti dopo i primi blitz e poi il giro di vite, tasse comunali, via i controlli sugli evasori. Questi titoli principali dell'edizione del centro di Pescara, andiamo a vedere insieme invece l'edizione del centro che riguarda Chieti, Lanciano e Basto, anche in questo caso andremo a leggere insieme i titoli della prima pagina, titolo principale che riguarda l'addio a Dario con Vasco, casa Canditella, folla per il giovane morto con la moto, ieri c'è stato l'ultimo saluto a questo 29enne morto in questo incidente stradale, accaduto nei pressi di casa Canditella dove il ragazzo viveva. E poi vedete la fotonotizia che riguarda anche in questo caso il calcio ma il Lanciano perché ieri c'è stata la presentazione ufficiale della formazione rossonera in piazza, Cori, slogan e bandiere, i mille salutano in piazza alla nuova Virtus. E poi un'altra notizia che riguarda il calcio anche se indirettamente vedete l'Angelini apre i concerti, lo stadio Guido Angelini di Chieti in gestione alla Chieti Calcio, il patron spettacoli in estate. E poi proiettili sequestrati a Lanciano, tre arresti e due denunce per spaccio e poi paura a Cupello perché quella di ieri è stata una giornata difficile sul fronte degli incendi non solo in provincia di Pescara come abbiamo visto a Caramanico ma anche a Cupello vanno in fiamme dieci ettari di frutteti e vigne. E poi pubblicata la gara Porto di Ortona ecco il bando per il dragaggio. Passiamo all'edizione di Teramo del quotidiano Il Centro poi chiuderemo con l'edizione dell'Aquila di Avezzano e Surmone passeremo al messaggero per iniziare a leggere i titoli di respiro nazionale dei nostri quotidiani. Edizione del Centro di Teramo, titolo principale che riguarda la vicenda di questa ragazza morta, dilaniata, il suo povero corpo sull'autostrada A14 e un giallo, versioni contrastanti sulle ultime ore prima della morte. E poi si parla dell'abruzzese Cristina Torturo Giulianova, la prima donna al comando dell'ufficio marittimo. Vedete nella foto. E poi le cronache. Il Teramo torna davanti ai giudici proprio nelle prossime ore. Verrà affrontato dal Collegio del Coni il ricorso della società Biancorossa. Ad Alba Adriatica lavori in chiesa messe nella sala comunale. E poi i roghi estivi ci costano 15 milioni. E proprio ieri ci sono stati diversi incendi nella nostra regione. Poi disabili. Il bando cambierà. Dopo le proteste il Comune prova a limitare i tagli all'assistenza. Siamo a Teramo. E poi vedete quest'altro titolo. Stelle del jazz. Per ricordare che l'Aquila è ancora ferita. Ci sarà domenica prossima questo importante evento. Chiudiamo con l'edizione proprio dell'Aquila, del quotidiano Il Centro. Aquila, Avezzano e Sulmona. Anche in questo caso daremo spazio proprio ai titoli di prima pagina. Poi andremo a sfogliare le pagine del quotidiano Il Centro nelle pagine interne. Vediamo il titolo principale che riguarda proprio l'edizione dell'Aquila. Cialente cerca una stampela. Dunque si parla di politica. L'Aquila, il sindaco, offre un posto in giunta ai rutelliani. E poi alberi pericolanti nel cortile della scuola. Ancora sequestrata sul Mona intervento dei vigili del fuoco. E poi ancora l'Aquila, fondi sisma, scovati altri furbetti. E poi il calcio in lutto. Barrio Nuevo, ex Celano, muore annegato. E poi la tragedia in A25. Ricorderete qualche giorno fa un ictus, la causa dell'incidente che causò tre vittime. E poi a Morino devastò l'ospedale arrestato. Il giovane sconterà la pena in una casa di cura. Allora lasciamo il quotidiano Il Centro. Poi torneremo proprio a seguire insieme, a leggere insieme le pagine interne del quotidiano d'Abruzzo. Ma andiamo a vedere il messaggero, la prima pagina del quotidiano di Roma. Per vedere e andare a leggere insieme le pagine interne. Cronache nazionali. Prima pagina. Padoan all'Europa. Così taglieremo le tasse sulla casa. Il ministro dell'economia. Bruxelles. Non potrà dire di no. Già pronte. Le coperture. E poi missione antiscafisti. Sì, dell'Unione Europea. E Cameron, premier inglese. Ora apre ai profughi. E poi rischio deflazione. Draghi. La crescita nell'Unione Europea rallenta. BC è pronta ad acquistare più titoli. E poi show antimafia. Il ritorno di Marino. E' tornato a Roma il sindaco dopo la vacanza negli Stati Uniti. Ma ci sono sempre polemiche anche per questo commissariamento di fatto del Campidoglio. E poi una notizia che arriva ancora da Roma. Il blitz del Papa dall'ottico da solo. Il Roma va in tilt. Il pontefice ieri è entrato in un negozio di Via del Babuino per acquistare un paio di occhiali. E ovviamente è andato in tilt il traffico proprio nella zona dove si trova l'ottico in cui si è recato il Papa. Andiamo a vedere le pagine interne del messaggero. Pagina 2. L'intervista al ministro Carlo Padoan proprio per fare il punto della situazione in Italia alla luce delle ultime manovre. Anche alla vigilia di un autunno che potrebbe essere ancora una volta però caldo per gli italiani. Ancora qualche istante. Ecco qui la pagina. Così taglieremo le tasse. L'Unione Europea non potrà dire di no. Il ministro dell'Economia spiega perché è giusto abolire le imposte sulla prima casa. Il ciclo virtuoso è partito anche grazie alle riforme. Dunque dice il ministro Padoan. Pagina 3. La crescita rallenta. Draghi potenzia. L'acquisto dei titoli. Le stime sul PIL europeo calano all'1,4% per il 2015. Inflazione dallo 0,3 allo 0,1%. La Banca centrale europea aumenta al 33%. Il tetto di raccolta dei bond, borse in netto rialzo. L'euro frena. E poi sotto, vedete in basso, a pagina 2, Fondo Monetario Internazionale dice rischi per la ripresa ma l'Italia può accelerare. Proseguiamo. Pagina 5. Migranti. Il Sì dell'Europa ha la missione antiscafisti al vertice UE del 14 settembre. Il via alle operazioni in acque internazionali. Comando a Roma intesa Merkel-Orland. L'Italia resta fuori. Palazzo Chigi dice Angela ha convinto Parigi. E pagina 6. Pagina 7. Scusate, si parla ancora del problema immigrazione perché Cameron, primo ministro inglese, ci ripensa e apre ai profughi. Anticipazione del Guardian. Londra prepara la svolta dopo le polemiche sulla Photoshop. Si rafforza l'asse franco-tedesco. L'Unione Europea scrive il nuovo piano quote. L'Italia potrebbe ricollocare 80.000 asilanti. La proposta verrà formalizzata l'8 settembre. E poi si va in Ungheria perché prosegue il disperato assalto ai treni. Scontri tra migranti e polizia. Gli stranieri partiti costretti a scendere. E poi il ministro Orban che dice rischiamo l'invasione di musulmani. E litiga con la Merkel. La stazione di Budapest paralizzata perché dall'Ungheria partono gran parte dei treni diretti in Austria e in Germania. Pagina 8. Aylan mi è scivolato via. Sognavamo il cana del padre disperato. La foto del piccolo siriano morto ha fatto il giro del mondo e deceduti anche il fratellino e la madre. Ottawa aveva respinto la richiesta di asilo. Questa tragedia che ha colpito davvero tutti. E in basso si parla dell'Isis che si sta avvicinando minacciosamente a Damasco. Gli Stati Uniti uccisi 10.000 miliziani. Ma in Siria il califato marcia verso il fortino di Assad. Ma perde terreno nel resto del paese a favore dei curdi. Pagina 9. le domande aperte da quelle photo shock. Ipocrisia in agguato dietro certe lacrime e poi se per indignarci aspettiamo l'icona. Si parla ancora della vicenda degli immigrati anche con queste testimonianze di importanti opinionisti che sono stati ascoltati proprio in questa pagina dal messaggero. Siamo a pagina 11 per parlare di politica nazionale di riforme. In particolare Bersani, leader della minoranza PD, dice nessuna scissione. L'ex segretario frena i ribelli. C'è un disagio politico che va affrontato ma dico tre volte mai alla rottura. L'intesa è possibile. Duro Correnzi si va verso una deformazione seria della democrazia. Il governo prende tempo. ascoltati i governatori. E Pierluigi, parliamo sempre di Bersani, evita il ministro e la festa dell'unità diventa modello Leopolda. Pagina 12. Casa Monica, lo show antimafia di Marino. Alfano vede Gabrielli per i poteri su Roma. Attenzioni alla manifestazione. Gli gridano torna i Caraibi e lui abbiamo cacciato i fascisti. Lo rifaremo con i mafiosi. Contestato il sindaco Marino. Questa manifestazione. E poi mafia capitale. L'inchiesta. Ottobre i primi verdetti. Anche Odzimo chiede il rito abbreviato. Pagina 13. La sinistra cerca il bagno purificatore ma in piazza Don Bosco la città non c'è. Non solo gli antagonisti a fischiare il sindaco. C'è lo scetticismo degli stessi militanti che dicono fa l'americano. Un anziano di cinecità a cui i vigili li abbiamo visti solo due volte. Al funerale e a questo contro funerale. Ovviamente ancora polemiche dopo il funerale proprio di questo esponente della famiglia Casa Monica che tante polemiche ha creato a Roma e non solo. Siamo a pagina 14. Politica internazionale. Parata militare da record. La Cina mostra i muscoli nella ricorrenza dei 70 anni dalla resa del Giappone. Show di jet, missili e soldati. Il presidente Xi avverte. Siamo forti ma non cerchiamo l'egemonia sugli altri. Vedete le foto proprio sulla parata militare a Pechino. E poi non trascrive le nozze gay. Il giudice la manda in prigione. Mano pesante in Kentucky contro un'impiegata comunale che si era opposta per motivi religiosi. E siamo a pagina 15. Precaria scuola. Il segreto dell'algoritmo. In 71.000 sono rimasti con il fiato sospeso in attesa del risponso del sistema informatico scelto dal MIUR. Ecco tutti i criteri che il ministero non ha voluto rivelare. Si predilige la preferenza indicata e poi si guarda al punteggio. E poi si parla anche di università. Il via i test d'ingresso. Meno aspiranti medici. Più dietisti. E poi c'è il caso tra pianto di rene da sveglio con i medici. Parlavo di calcio a Torino. Il primo intervento in Italia su un paziente di Napoli che non avrebbe retto l'anestesia totale. Fortunatamente questo intervento è andato bene. Pagina 15. Ecco la notizia che abbiamo ritrovato anche nella prima pagina del messaggero. Il Papa entra dall'ottico e dice Vorrei spendere poco. Il centro di Roma in tilt. Il blizzi in un negozio di via del Babuino. Devo cambiare occhiali. Niente montatura. Mi faccia pagare. Quel che devo. Urla e corri fuori dal locale. Buonasera. Scusate il disturbo. Ha detto il pontefice. Il proprietario ci vede benissimo. Come detto traffico in tilt. E poi si parla anche della vicenda. Ricorderete della morte per malore almeno ufficialmente dell'ex enunzio apostolico Weslowski. Ho sentito dire che si è avvelenato giallo sulla morte del vescovo pedofilo. Vaticano voce e dubbi proprio sulla fine dell'ex enunzio apostolico. Spunto a una memoria difensiva dell'alto prelato polacco che potrebbe portare a nuovi colpi di scena. Siamo alle pagine dell'economia. Più leggere le cartelle di Equitalia. Per chi paga entro 60 giorni l'agio della riscossione sarà tagliato fino all'1% contro il 4,65% che si versa oggi. E poi novità per le detrazioni fiscali. Ogni 5 anni saranno riviste in Consiglio dei Ministri i decreti di riforma del fisco. E poi mutui ad agosto le richieste delle famiglie salgono del 57%. Ancora avanti BNL prepara il terreno per l'ascesa di Novati. E poi si parla di Twitter perché sale il pressing per il nuovo numero 1. Allora lasciamo le pagine nazionali del messaggero. Andiamo a vedere insieme quelle del centro. Tra l'altro vi ricordo come sempre che intorno alle 7.20 avremo la consueta pagina dedicata al meteo con il nostro Giovanni De Palma. Pagina 2 del quotidiano Il Centro. Si parla anche qui dell'emergenza in migrazione. Scontri in Ungheria dopo l'assalto ai treni. Riapre la stazione di Budapest ma i convogli internazionali restano fermi. Il premio Orban problema tedesco. La Merkel risponde. Facciamo ciò che è giusto. Pagina 3. Parigi e Berlino unite. Quote obbligatorie. Sanzioni a chi rifiuta gli immigrati. Pagina 4. Il rapporto COP. Le famiglie hanno perso 122 miliardi. In 8 anni di crisi colpito il potere d'acquisto e di risparmi. Evasione fiscale super. Gli italiani ora riprendono a comprare. E poi politica nazionale. Le beghe nel Partito Democratico. Bersani avverte Renzi. Cerchi una sintesi. Non fare le riforme con i transfughi. Boschi la maggioranza c'è ma si appella Forza Italia. E poi in basso Vespa festeggia i 20 anni di porta a porta. Il talk show del giornalista Aquilano che dura da 20 anni. Non conosce evidentemente crisi. Pagina 5. Crescita lenta. Banca Centrale Europea in aiuto. Più liquidità nell'Eurozona. La Banca Centrale Europea porterà l'acquisto di titoli di Stato dal 25 al 35%. Draghi pericolosa la crisi orientale. Poi il Fondo Monetario Internazionale che dice anche gli Stati Uniti. Tengano bassi i tassi. Poi sfidano le nuove armi della Cina parata a Pechino. Ma il primo ministro Xi Jinping rassicura. Noi siamo in pace con tutti i popoli. E poi la visita del Presidente israeliano. Il Papa Rivlin riavviare i negoziati con i palestinesi. E poi la morte del Nunzio. Vesloschi. Gli abusati chiederanno un risarcimento. Come abbiamo visto questa morte un po' avvolta nel mistero. E poi la manifestazione. Siamo a Roma a presidio della legalità. Marino cacceremo i mafiosi da Roma. Il sindaco accolto da fischi e applausi libera. Non partecipa tanta gente. E anche uno striscione. Contro il Casa Monica. La testimonianza della giornalista che ha denunciato il clan Spada. Gruppi contestano i partiti. Siete nel sistema. E poi vedete anche qui la foto del Papa che va in centro dall'ottico per acquistare una montatura di occhiali. E poi i test universitari. Oggi si comincia. Siamo alle pagine d'Abruzzo. Prima di concentrarci sul meteo. Pagine d'Abruzzo. Cronaca regionale dal centro. Un'altra estate di fuoco che ci costa 15 milioni. Attanto ammontano le spese. A cui la regione deve far fronte per salvaguardare bosche e campagne. Quest'anno non è andata meglio delle altre stagioni. E poi mobilitazione continua. Salvata una pineta nel Parco Nazionale. Pagina 2 di Cronaca regionale. Il calendario venatorio in Abruzzo. Caccia per ora solo alla Tortora. In appostamento e senza cani. Lasciamo le pagine d'Abruzzo del centro. Vediamo velocemente quelle del messaggero. Prima di aprire alle 7.20 come ogni mattina la pagina relativa al meteo. Prima pagina di Cronaca regionale dal messaggero. Mare Spolco bolgia in consiglio comunale a Pescara. La querelle dell'estate scatena il caos. Opposizione scatenata. Seduta interrotta due volte. Corri da stadio del pubblico. Alessandrini dimettiti. Hanno gridato alcuni presenti in sala consigliare. Poi vedete la fotonotizia che riguarda la presentazione ieri di Campagnano e degli altri nuovi acquisti del Pescara. E a Teramo. La smulta chi diserta esami e visite senza avvisare. Pagina 2 della Cronaca regionale. Asilo politico così l'accoglienza ai migranti diventa definitiva. Camere di commercio. Pescara e Chieti alla stretta decisiva per la fusione. Poi Dragaggio del Porto parte il bando ad Ortona. E Monsignor Galantino oggi sarà a Fara San Martino l'esponente della Chiesa Cattolica. della CEI sarà proprio in provincia di Chieti per questo convegno. Galantino che nei giorni scorsi aveva bacchettato i politici italiani proprio per la vicenda dei migranti. Allora sono le 7 e 21 minuti. Possiamo aprire la pagina relativa al meteo come sempre con il nostro Giovanni De Palma che è in collegamento diretto e che vado a salutare. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora siamo al 4 di settembre diciamo che da un punto di vista di calendario meteorologico è di fatto entrata la nuova stagione, quella autunnale, però continua a fare piuttosto caldo anche se come ci avevi detto anche nei giorni scorsi la situazione potrebbe nelle prossime ore cambiare. È così? Esatto, esatto. Paolo, il tempo è in peggioramento dopo l'incontro stato dominio anticiclonico che nei giorni scorsi ha, e non solo, ha favorito temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Il dominio anticiclonico stavolta verrà sostituito da masse d'aria più fresca di origine atlantica che daranno luogo anche a un deciso peggioramento del tempo a partire dalle prossime ore. Atteso a un aumento dell'instabilità sulla nostra regione, inizialmente sulle zone montuose con possibilità di temporali, soprattutto nel corso del pomeriggio, tardo pomeriggio, sul settore centrale e sul versante orientale, con degli sconfinamenti stavolta che potrebbero raggiungere anche la fascia costiera. Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista in serata, ma dalla tarda serata arriverà la perturbazione vera e propria che inizierà ad interessare il vicino Lazio, poi la Marsica e l'Aquilano, con delle piogge localmente anche di una certa consistenza, non si escludono temporali di forte intensità che poi in nottata tendranno ad estendersi anche verso il settore orientale della nostra regione, risultando però più probabili nell'Ettaramano e nel Pescarese. Questi fenomeni si spingeranno anche verso la fascia costiera e saranno accompagnati da forti raffiche di vento. Poi nella giornata di sabato, nella mattina di sabato, se inizialmente, comunque a più mattino saranno possibili delle schiarite, in particolar modo sul destante orientale della nostra regione, con il passare delle ore, quindi nel corso della mattinata, assisteremo a un nuovo peggioramento, sempre a partire dal settore occidentale, quindi dalla Marsica, dall'Aquilano, l'Alto Aquilano, poi con fenomeni temporaleschi, localmente anche di forza intensità, in estensione verso le restanti zone della nostra regione, verso il settore orientale, quindi sarà una giornata di sabato all'insegna della marcata instabilità con frequenti episodi di maltempo, Paolo. Proprio nella giornata di sabato le temperature sono previste in sensibile diminuzione e se vogliamo spingerci anche nella giornata di domenica possiamo dire che dalla serata di sabato ci saranno comunque delle schiarite, ci sarà un'attenuazione dei fenomeni, soprattutto sempre sul settore orientale della nostra regione, però se da un lato queste schiarite potranno continuare a manifestarsi anche nella mattinata di domenica, non si esclude ancora una volta la possibilità di addensamento, soprattutto nel pomeriggio, tardo pomeriggio, sulla faccia orientale, stavolta nella nostra regione, con dei rovesci localmente a carattere temporalesco, ma comunque le temperature diminuiranno sensibilmente, andremo anche di sotto delle medie stagionali e poi, Paolo, nei primi giorni della prossima settimana continueremo a essere interessati da masse d'aria fresca provenienti dall'Europa centro-settentrionale e quindi di conseguenza il tempo continuerà ad essere caratterizzato da condizioni di instabilità, quindi annuolamenti, precipitazioni e temperature che diminuiranno sensibilmente rispetto, ripeto, ai valori che si sono registrati fino a questo momento. Quindi la situazione in deciso cambiamento è entrato, tu l'hai detto perfettamente, è entrato l'autunno meteorologico, perché dal primo settembre entra l'autunno meteorologico, che vuol dire che in questo periodo iniziano a manifestarsi i cambi di circolazione che assomigliano più a quello che si dovrebbe verificare proprio nella stagione autunnale e così sta accadendo e infatti il tempo peggiorerà a partire dalle prossime ore, almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, Paolo. Dunque prendiamo atto di questo cambiamento del tempo, qualcuno dirà meno male dopo oltre due mesi di gran caldo. Io ringrazio Giovanni De Palma, grazie Giovanni, buona giornata, buon lavoro, appuntamento ovviamente domani per nuovi aggiornamenti sul meteo. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Bene, ringraziamo Giovanni De Palma, dunque il tempo sta cambiando, come ci aveva detto il nostro meteorologo nei giorni scorsi, dunque atteso un peggioramento, ovviamente seguiremo l'evoluzione della situazione anche attraverso, anche e soprattutto il sito www.abruzzometeo.org che vedete inquadrato puntualmente in quest'istante, proprio dove è possibile seguire minuto dopo l'evoluzione del tempo con le previsioni, vedete i live delle nostre province, anche la pagina Facebook del nostro Giovanni De Palma, uno strumento importante anche per interagire con il nostro meteorologo ed essere informati sull'evoluzione del tempo e sulle previsioni meteo che riguardano in particolare la nostra regione. Prima di fermarci per qualche istante iniziamo a leggere le prime pagine del centro, cronaca di Pescara, la prima che riguarda l'inchiesta della finanza, spariti i libri contabili dopo i blitz della finanza, l'indagine sui fallimenti pilotati, così Mattucci voleva eludere i controlli, il GIP dice puntava a fare nuovi affari, gli altri imprenditori lo temevano. Questa mattina in carcere i primi interrogatori degli indagati e pettinari, esponente consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, dice serve una legge regionale che aiuti le vittime. E poi il caos in comune, perché ieri come detto c'è stato il consiglio comunale straordinario a Pescara, c'è stata Bagar, noi ora ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo in studio e vedremo il servizio che abbiamo realizzato e anche alcune interviste. Seconda parte di mattino 6, eravamo alle pagine del centro, cronaca di Pescara, le magliette fermano il consiglio sul mare, l'opposizione proteste, la maggioranza fa saltare la riunione e poi gli avvocati mostrano le photoshop, l'acqua inchiunata fa ammalare il sindaco, Marco Alessandrini dice una trappola per fare ancora polemica, sospiri, esponente di Forza Italia, consigliere regionale, comune, dice doveva lanciare l'allarme subito. Allora andiamo a vedere il servizio realizzato da Alfredo Primante. Voi invece non fate niente, ecco perché potete fare quello che volete. Finisce questa storia però ha previsto. Quando il presidente del consiglio comunale di Pescara, Blasioli, sospende per un'ora la seduta straordinaria sul mare inquinato per far togliere le magliette con la scritta di mettiti ai consiglieri di centrodestra, scoppia la bagarre in un'aula gremita non solo dai rappresentanti politici e delle associazioni ambientaliste, ma anche da semplici cittadini. La mancata applicazione della delibera per il divieto di balneazione nel tratto di mare di via Balilla, a seguito della rottura della condotta fognaria di via Raiale lo scorso 28 luglio e dello sversamento nel fiume Pescara di 25 mila metri cubi di liquami, oramai da un mese tengono banco sui media regionali e nazionali ed agitano la polemica politica. Le opposizioni centrodestra e Movimento 5 Stelle in coro chiedono che il sindaco Marco Alessandrini si faccia da parte. Penso che noi oggi andiamo ad interpretare il pensiero di quasi la totalità dei cittadini di Pescara e sicuramente di tutti i turisti che sono venuti a Pescara nel mese di agosto. Il sindaco ha sottaciuto, ha tenuto nascosto un'ordinanza molto importante, non si può giocare con la salute dei cittadini e tantomeno con quella dei bambini. Vi unite anche voi al coro dei dimettiti del centrodestra? Assolutamente sì, abbiamo presentato infatti tanto tempo fa una mozione di sfiducia, non siamo riusciti a ottenere la tredicesima firma dalla maggioranza e oggi in questo consiglio straordinario ci rivolgiamo ancora a loro, ai 20 consiglieri del centrosinistra, tra cui ad esempio Cassell, Sinistra Ecologia e Libertà, che non vuole sfiduciare il sindaco. Dal canto suo il primo cittadino che a suo sostegno ha portato in aula ACA, ARTA e Medici per ribadire che nulla di grave sia successo non pensa proprio a mollare, anzi se la prende con chi fino ad oggi ha fatto solo demagogia senza risolvere i problemi. Io naturalmente non mi dimetto, trovo incredibile questa vicenda, per me è espressione del teatrino della politica. Noi siamo pronti a chiarire la vicenda dinanzi ai tribunali, visto che sono stati investiti anche i tribunali, francamente non vediamo l'ora di farlo. Stigmatizzo questa condotta volta ad alimentare nel corso del mese di agosto un'inutile paura, visto che la qualità delle acque di Pescara 2015 è esattamente come quella del 2014. Tornando indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto? Credo che emettere un'ordinanza il giorno in cui si sapeva che la qualità delle acque sarebbe stata balneabile avrebbe ingenerato più danni che benefici. Queste le parole del sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il nostro affredo primante poi ha ascoltato anche di Baldassarre dell'ACA. Vediamo cosa ha detto il dirigente della società acquedottistica. L'ACA è una delle grandi accusate di questa situazione che si è determinata a Pescara ma anche poi a Fosso Pretaro a Francavino. Beh, sono situazioni diverse quelle di Pescara e di Fosso Pretaro. Su Pescara noi abbiamo parato in emergenza e anzi abbiamo probabilmente risolto un problema per quanto riguardava gli sversamenti che si potevano allungare un periodo molto più lungo e abbiamo fronteggiato quindi un'emergenza importante. Fosso Pretaro è una situazione ancora più complessa forse perché su Fosso Pretaro ancora non si individuano esattamente le cause. C'è molta discussione su questo ma i tecnici stanno lavorando e aspettiamo l'esito di queste indagini. Il sindaco di Francavilla però ha detto di voler andare per le vie legali? Beh, è una sua prerogativa perché vi taglielo. Penso che sia un atteggiamento che lui ritiene corretto. Può andare tranquillamente per questa strada. Noi faremo la nostra che è di natura tecnica. Comunque quel depuratore è stato manutenuto anche per informare la popolazione di quello che poi effettivamente si fa all'interno di quegli impianti che sono così importanti? Ma il depuratore di Fosso Pretaro non solo è manutenuto ma proprio per individuare esattamente cosa possa essere successo è stato sottoposto per nostra scelta volontaria a un esame quotidiano da parte dell'Arta che ci sta mandando quotidianamente gli esiti di questi risultati e da quanto mi risulta sono tutti quanti perfettamente nella norma. Verrà riparato lo scarico che andava a mare che poi si dice che sia stato quello il problema principale? Io non so se sia stato quello il problema principale perché i risultati danno esiti piuttosto altalenanti però sicuramente sarà fatto un intervento. Grazie. Abbiamo ascoltato dunque anche l'ACA su questa vicenda. Noi proseguiamo. La scomparsa del missionario sempre dalle pagine del centro di Pescara. Il mondo del web prega per padre Luciano. E poi si parla di scuole. In via Vespucci solo per un anno. Rapposelli Forza Italia dice. La sede della succursale del liceo da Vinci è provvisoria. E poi pagina 3 della cronaca di Pescara. Cultura torna alla manifestazione Il fiume e la memoria con film e spettacoli. E poi giochi del Mediterraneo. Atleta del nuoto pinnato. Soccorso per un malore in mare. È stato poi rianimato dai sanitari del 118. E poi Abramo Rossi volontario della libertà. L'ex internato militare. Oggi una medaglia in prefettura. Nominati anche otto nuovi cavalieri. Vedete nella foto il prefetto di Pescara Vincenzo D'Antuono. Proseguiamo. Pagina 17. Siamo alla cronaca a Montesilvano. In particolare dove un giovane di 32 anni cubano ha coltellato la convivente per una lite. La donna è stata leggermente ferita ad un pollice ma le conseguenze potevano essere molto più gravi se i vicini di casa non fossero intervenuti a trattenere la furia dell'uomo. E' stata una vicenda molto concitata quella di ieri anche perché come detto anche in questo sommario è stato importante l'intervento dei condomini. Il giovane è stato poi arrestato. Poi a Pescara nomadi bloccati dopo il furto in una casa. Una giovane e un minore di 15 anni fermati con l'area furtiva davanti ad una palazzina sul lungomare. Poi Mercurio nell'acqua. Scaggionate il sindaco Rocca Morice, l'avvocato De Iulis, chiede l'archiviazione del suo assistito al PM Rita Mantini. Proseguiamo. Pagina di Montesilvano del centro. Affitti, sospetti, omissioni, giro di vite sugli evasori. Scattano i primi controlli incrociati e le segnalazioni grazie alla convenzione sottoscritta marzo tra comune, agenzia delle entrate, guardia di finanza. E poi una notizia che riguarda il Movimento 5 Stelle. Consigliere comunale Manuel Anelli trova un lavoro e si dimette da consigliere sabato. Dunque domani ci sarà una conferenza stampa in cui Anelli spiegherà nel dettaglio questa decisione di dimettersi da consigliere comunale. Poi Bocciodromo da 15 anni è una scatola vuota. Di Stefano presenta la sua sesta interrogazione consigliare per fare luce sull'opera incompiuta. Siamo alla cronaca dell'area metropolitana di Pescara, fondi per le case di riposo. Montesilvano va al tar, lite amministrativa per contestare il secondo posto in graduatoria del comune di Spoltore che con le risorse assegnate vuole ristrutturare Villa Acerbo. Poi Moscufo, opere per 250 mila euro, approvato il bilancio di previsione con un aumento dell'addizionale IRPEF. Proseguiamo, siamo a Francavilla, anzi scusate a Manoppello, si parla del Volto Santo e del tour americano-asiatico. Nuova missione internazionale per la sacra immagine di Manoppello con tappe a Vancouver, Los Angeles e Manila. E poi tornano i piromini, rogo devasta, 30 ettari di macchia mediterranea, caramanico, incendio doloso, sfiora un gruppo di case a Contrada Sant'Elia, determinante l'intervento dei Canadair da Roma per domare le fiamme. E poi a Popoli, operazione dei carabinieri della locale Compagnia, sanzioni per 40 mila euro a venditori cinesi, è stata sequestrata anche della merce. Vedete nella foto il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Popoli, il capitano Antonio Di Cristofaro. E poi siamo a Chieti, casa Canditella in lutto, addio a Dario tra gli angeli e i palloncini, l'ultimo saluto straziante al giovane rimasto vittima di un incidente stradale con la moto. E poi a Chieti lo stadio Angelini apre i concerti, l'impianto in gestione al Chieti Calcio. Arrivano i big della musica, dunque c'è questa importante notizia che arriva da Chieti e che riguarda proprio la gestione dello stadio affidata alla società Neroverde. E poi Castelfrentano, spaccio, tre arresti e due denunce. Siamo all'Aquila, politica, Cialente offre un posto in giunta a Mancini dell'Api, il sindaco cerca voti anche nel campo avverso. Nasce il gruppo dei Salvignani, i giovani mollano, De Matteis. E poi ad Avezzano, devastò il pronto soccorso arrestato. E tornando all'Aquila, fondi del sisma, la procura ha scoperto altri furbetti. Siamo alla pagina di Sulmona del quotidiano Il Centro, alberi pericolanti nel cortile della scuola ancora sequestrata, gli abeti dell'Istituto Denino tagliati dai vigili del fuoco in seguito alle proteste dei residenti in piazza Capograssi. E poi altre notizie che arrivano dall'area Peligna. La Will accusa giudizio sospeso per chi presenta un ricorso, si parla della polizia penitenziaria, in Valle Subequana. La caccia al cinghiale parte con un mese di anticipo e a Prato-La Peligna, in centro storico, va in scena. La prima notte, Templare. Siamo alla pagina di Teramo del quotidiano Il Centro, orrore in autostrada, il dolore a Tortoreto, ragazza morta dilaniata dalle auto. Autopsia per chiarire il giallo. Oggi sarà eseguito l'esame sui resti e rientreranno anche i risultati degli esami tossicologici, versioni contrastanti sulle ultime ore di vita. Secondo alcuni amici, stava festeggiando il compleanno. E poi, cambiando argomento, si parla dello Zero Waste, la Regione di Cano all'inceneritore, il gruppo Teramano chiede alla Regione di prendere una posizione precisa. E prima di passare alle pagine dello Sport del Centro, noi andiamo al Messaggero, poi ci sarà anche la città di Teramo per vedere anche altri titoli, altri argomenti trattati dal quotidiano, che prende in esame soprattutto la cronaca di Teramo e provincia. Siamo comunque al Messaggero. L'Aquila, Morosi, assalto al Comune per pagare le bollette, 60 persone al giorno si presentano per evitare di passare l'inverno al freddo. Aumenta il numero degli sfratti, passeranno da 2 a 5 a settimana. Utenze e i revisori intervengono sulla transazione. E poi la denuncia, un operaio romeno nei guai per ricettazione, a Silinido, trasferiti 100 bambini nelle MUSP del Viale, trovano posto soltanto 60 alunni, soluzione tampone dell'assessore Di Giovanni Battista. Noi su questa vicenda degli asili e delle problematiche che riguardano gli asili dell'Aquila, abbiamo realizzato ieri un servizio con i colleghi della nostra redazione dell'Aquila, un servizio che è servito anche per fare un po' il punto della situazione su questa vicenda, che ormai si trascina da diversi giorni. Andiamo a vedere cosa sta accadendo all'Aquila per quanto riguarda la situazione degli asili nido. Tra l'altro siamo proprio all'inizio del nuovo anno scolastico. Sarà una cooperativa privata a gestire due dei tre asili nido comunali per i quali si era appaventata addirittura la chiusura a causa della mancanza di personale nella pubblica amministrazione. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e l'assessore alle politiche sociali Emanuela Di Giovanni Battista annunciano l'uscita di un bando pubblico di affidamento per la gestione privata degli asili nido comunali a Petau e Primo Maggio rimasti senza educatrici per effetto del Jobs Act varato dal governo Renzi che non permette le proroghe dei contratti al personale precario oltre i 36 mesi. In sostanza gli asili rimangono pubblici ha tenuto a precisare il primo cittadino il coordinamento pedagogico didattico rimane in carico al comune dell'Aquila. La gestione invece è affidata alla cooperativa vincitrice del bando che dovrà, secondo la clausola stabilita dall'assise civica riassorbire mestre ed educatrici rimaste senza posto di lavoro. In questo momento noi continueremo ovviamente la contrattazione con il governo per avere questa famosa deroga al Job Act che non riguarda solamente gli asili nido ma riguarda tutto il personale precario del comune che è a scadenza il 30 settembre quindi è un problema molto più ampio. Nel frattempo però il nostro obiettivo è anche quello di dare servizio alle famiglie quindi non possiamo aspettare stando con le mani in mano ovviamente che il governo ci dia una risposta ma comunque noi lavoreremo e stiamo lavorando ad un bando che non renderà l'asilo privato attenzione ma l'asilo rimarrà pubblico quindi ci si accederà attraverso la graduatoria pubblica i regolamenti saranno i regolamenti comunali dell'asilo pubblico il coordinamento pedagogico sarà del comune ci sarà esclusivamente il personale che sarà della cooperativa privata e cercheremo ovviamente in questo bando di far riassorbire il personale che fino adesso ha lavorato con noi Un nodo normativo che è aggravato dal blocco delle assunzioni nel pubblico impiego ha costretto il comune ad attuare scelte tampone necessarie a dare risposte concrete e soddisfacenti alle famiglie aquilane con bambini spiega l'assessore di Giovan Battista incontreremo il ministero la prossima settimana per chiedere la proroga dei contratti senza la quale l'affidamento della gestione è l'unica via possibile Questo è il servizio proprio sulla vicenda degli asili nido all'Aquila noi proseguiamo ancora con le pagine del messaggero cronaca dell'Aquila in questo caso Avezzano Sulmona isola pedonale guerra commercianti e ambientalisti scatenati c'è chi media ma spunta un problema di carattere giudiziario che impedirebbe all'amministrazione comunale di soprassedere e poi a Avezzano anziani truffati scatta l'allarme a Sulmona istituto tecnico cortile più sicuro dopo l'intervento dei vigili del fuoco e a Molina Terno andata di furti ladri bongustai e poi ricorderete la vicenda dell'altro giorno di Sulmona dove una ragazzina aveva accoltellato il padre la ragazza è stata incriminata ipotezzato il reato di tentato omicidio l'imprenditore operato la figlia ricoverata in psichiatria e poi a Castel di Sangro si parla di occupazione bocche di forli lavoratori licenziati siamo alla cronaca di Pescara del messaggero l'attacco al sindaco finisce in bagarre il centrodestra si presenta in aula con magliette e cartelli chiede la testa di Alessandrini ma alla fine litiga con il Movimento 5 Stelle il presidente Blasioli sospende due volte i lavori e poi rinvia il pubblico inferocito seduta a vuoto Sabatini esponente del 5 Stelle ha perso la città e poi Presutti capogruppo del Partito Democratico dice in arrivo opere idriche per 80 milioni accuse da sospiri imbarazzi e guai anche per la regione doveva informare i cittadini del divieto abbiamo visto il servizio proprio pochi minuti fa sul consiglio comunale di ieri di Alfredo Primante poi se trovano le carte un macello per tutti la telefonata chiave parliamo dell'inchiesta della finanza sui fallimenti una conversazione via Skype tra due collaboratori di Mattucci suona come una confessione dei fallimenti pilotati della banda e poi acqua al mercurio il sindaco di Roccamorice si difende poi due croati arrestati dopo un furto in casa a Pescara siamo ancora nelle pagine della cronaca della provincia di Pescara sequestri e multe stangata per i cinesi controlli a tappeto dei carabinieri 4 bazar nel mirino in Val Pescara 40 mila euro di sanzioni tra scafa e popoli ieri su questa vicenda vi abbiamo proposto nel corso del TG6 un servizio della nostra Elisa Leuzzo sono stati sequestrati dei prodotti e come detto anche come visto da questo articolo del messaggero sono state elevate sanzioni per 40 mila euro questo il bilancio dell'operazione dei carabinieri della compagnia di popoli diretti dal capitano Antonio Di Cristofra allora possiamo andare a vedere insieme il servizio che fa proprio riepiloga questa operazione in Val Pescara dei carabinieri centinaia di prodotti illegali sequestrati e sanzioni per 40 mila euro questo il bilancio dell'operazione di controllo di negozi gestiti da cinesi in Val Pescara condotta dai carabinieri della compagnia di popoli i militari dell'arma hanno controllato quattro bazar tra scafa e popoli per verificare il rispetto delle norme amministrative in materia di commercio nel corso del servizio coordinato hanno contestato ai proprietari dei negozi tutti i cinesi residenti in Italia il mancato rispetto delle normative in materia di codice del consumo molti dei prodotti esposti infatti sono risultati non conformi ai parametri previsti dalle normative del settore in particolare quelle che regolano la vendita dei cosiddetti giocattoli pericolosi sono state sequestrate alcune centinaia di prodotti illegali poiché non corrispondenti ai parametri di sicurezza imposti dalle normative dell'Unione Europea prodotti per la cura della persona giocattoli piccoli elettrodomestici dispositivi di correzione della vista ed oggettistica di vario genere ai proprietari dei bazar sono state inflitte sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro i titolari sono stati segnalati agli uffici competenti della Camera di Commercio di Pescara ancora cronaca dalla provincia di Pescara Montesilvano voleva coltellare la compagna fermato dai vicini e poi orri argenti e bronzi azzurri Pescara conquistata dai giochi sulla spiaggia e poi la politica Montesilvano Annelli Lancia 5 Stelle lascia scusate abbiamo visto anche dalle pagine del centro i 5 Stelle perdono in leader domani come detto ci sarà la conferenza stampa proprio di Manuel Annelli consigliere comunale del Movimento 5 Stelle che spiegherà nel corso proprio di questo incontro con la stampa i motivi dell'abbandono siamo alla pagina di Chieti del messaggero stangata su acqua e menze taglia la spesa per 10 milioni il sindaco di Primio prepara un bilancio lacrime e sangue per evitare il dissesto non possiamo più tariffare i servizi al di sotto del costo di acquisto ceneri tossiche mistero sull'area contaminata e poi guai per tutti San Giovanni cerca 750 mila euro musica e gol lo stadio Angelini si finanzierà con i concerti ieri vi abbiamo proposto nel corso del TG6 l'intervista con l'assessore allo sport del comune di Chieti Antonio Viola e poi bar del centro svaliggiato nella notte a Lanciano iniziate le feste di settembre ma a festeggiare sono i ladri vetrina scassinata e cassa ripulita al Cati Caffè di Lanciano sconvolto il titolare a vasto rifiuti e scritte deturpano il belvedere di San Nicola ancora vasto agenti aggrediti l'avvocato accusa siamo ancora alle pagine della cronaca dal messaggero a Teramo in questo caso sosta lunga ecco il cantiere per il parcheggio della stazione e poi camere di commercio di Sante ci prova una camera unica regionale fusione con l'Aquila sì ma ricordiamoci che qui ci sono più imprese e poi la ASL multa chi diserta la visita senza avvisare e poi la polemica sportiva ne abbiamo parlato tanto in questi giorni Brucchi e la serie B da bloccare l'opposizione spara ad alzo zero e poi alla Teramo ambiente risale la protesta in ballo due giorni di sciopero siamo alla pagina della provincia di Teramo in particolare a Giulianova nel cellulare una pista per la tragedia gli inquirenti stanno cercando tracce e indizi nel telefono della 19enne trovata a cadavere lungo l'autostrada 14 il padre ribadisce non c'era stata nessuna lite in famiglia chissà qualcosa sulle ultime ore di mia figlia deve parlare e poi il comandante Torturo si presenta onorerò i valori dell'Abruzzo la prima donna comandante in Abruzzo di una proprio della guardia costiera in questo caso a Giulianova e dunque viene proprio in questo articolo presentato il nuovo comandante che dice come detto onorerò i valori dell'Abruzzo e poi a Roseto sindaco di albergatori per il turismo rosetano è stata un'ottima stagione e tornando a Giulianova le analisi confermano il mare Giuliese è pulito prima di passare allo sport andiamo a leggere insieme le pagine del quotidiano la città di Teramo andiamo a vedere subito la prima pagina lo faremo tra qualche istante del quotidiano la città di Teramo per vedere proprio i titoli principali prima pagina ancora un istante vedremo inquadrata la pagina la prima pagina del quotidiano la città di Teramo si parla anche del quotidiano scusate della questione che riguarda il Teramo calcio perché ci sono dei ricorsi ancora in ballo l'abbiamo visto dalle pagine del centro e del messaggero proprio nella giornata di oggi tra l'altro dovrebbe arrivare la risposta del collegio del CONI per quanto riguarda proprio il ricorso della società teramana allora possiamo andare a vedere la prima pagina proprio del quotidiano la città di Teramo il Teramo resta in Lega Pro il collegio di garanzia dello sport nemmeno discute il ricorso bianco rosso però come dicevamo la giornata di oggi potrebbe regalare altre sorprese o comunque dovrebbe esserci il pronunciamento che ieri non c'è stato poi vendemmia record e poi il comune si sveglia sui disabili siamo a Teramo assistenza tagliata convocati prima delle nuove proteste e poi una donna la guida della guardia costiera a Giuliano abbiamo visto anche dal centro proprio questo servizio questa notizia importante pagina 3 cronaca regionale Abruzzo buone notizie dalla vendemmia il 2015 è un'annata memorabile e poi la protesta perché agricoltori abruzzesi saranno al Brennero per manifestare contro l'Europa e poi problema cinghiali la regione riapre la caccia in anticipo il WWF insorge provvedimento già bocciato 14 volte siamo a pagina 4 il Teramo resta in Lega Pro il ricorso non è stato discusso sabato l'attesa conferenza stampa per la presentazione di nuovi vertici progetti e acquisti della società vedete nella foto il patron Campitelli ma come detto oggi potrebbe essere scritta la parola fine su questa vicenda e poi raffica di critiche sull'uscita del sindaco Brucchi che aveva chiesto lo stop ai campionati andiamo ancora avanti pagina 6 fratt'Arcangeli esce dalla porta e rientra dalla finestra dopo le contestazioni e l'inchiesta sugli autobus e sugli scuolabus in particolare la ditta ha fornito i mezzi alla colonia marina del comune e poi ambiente rifiuti zero Teramo dice no all'inceneritore d'Alfonso Blocchi lo sblocca Italia di Renzi proseguiamo pagina 7 il comune si sveglia e convoca i disabili nulla è cambiato nell'assistenza alle famiglie minacciate nuove azioni di protesta sulla riorganizzazione dei servizi siamo a pagina 8 la procura indaga nella vita della ragazza torniamo sulla vicenda drammatica della 19enne travolta sulla A14 perché gli inquirenti cercano di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza cronaca controlli della polfer nelle stazioni della provincia di Teramo pagina 9 sicurezza alba adriatica si affida ai privati stanziati 30.000 euro per le guardie giurate armate e solveglielanno i luoghi pubblici sensibili e a Santo Ottomero fondi per 1.300.000 euro per sistemare le scuole proseguiamo pagina di Giulianova in Mosciano primo passo per la nuova sede dei carabinieri pubblicato l'avviso per la verifica della vulnerabilità sismica dell'ex mercato coperto di piazza dalla chiesa e poi la cerimonia Clarissa tortura la guida della capitaneria di porto di Giulianova prende il posto di Sandro Pezzuto siamo a pagina 11 siamo alla pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi la schiazza è una scuola pericolosa i genitori scrivono una lettera agli amministratori chiedendo di spostare i bambini siamo a Roseto lo scorso anno vennero segnalati cattivi odori e malesseri tra i piccoli scolari sempre a Roseto pulizia dei canali per impedire gli allagamenti in città e sempre nella città riverasca della provincia di Teramo Falicioni lascia la destra ed entra in fronte nazionale e poi in incidente a Cepagatti ragazza di Silvi in ospedale proseguiamo siamo alla pagina della cultura Pino e i suoi così nasce il confronto con il maestro a pescare le opere di Pascali dialogano con quelle di Biscotti e dunque ci sarà da seguire questa importante mostra proprio nello spazio Matta che si trova in via Gran Sasso a Pescara e poi Andrea Ferrol madrina del Di Venanzo la popolare attrice francese alla ventesima edizione del premio cinematografico siamo allo sport abbiamo già visto nelle prime pagine del quotidiano la città le vicende che riguardano la Teramo Calcio in questo caso si parla di basket esordio al Palamagetti per gli Sharks domani l'amichevole contro l'amatori Pescara di Stefano Raiola allora con lo sport andiamo a chiudere il nostro appuntamento con Mattino 6 partendo dalle pagine dello sport del quotidiano il centro Campagnaro Scalpita voglio tornare in Serie A ieri la presentazione dei 14 nuovi acquisti del Pescara noi abbiamo ascoltato proprio l'ex difensore dell'Inter Ugo Campagnaro dall'Inter dalla Serie A al Pescara con grande entusiasmo però sì con molto entusiasmo soprattutto quello questa qua è una città bellissima ho capito che c'è tanto entusiasmo in questo gruppo se può far bene allora questo è un progetto che mi piace e niente ho parlato qualche giorno fa col mister e mi hanno spiegato bene tutto come funziona qua come siamo messi e niente ho colto questa occasione al volo perché mi piace il progetto che c'è qua aveva avuto diverse richieste da formazioni del tuo paese hai scelto Pescara sì no ma ancora io non volevo giocare in Argentina volevo continuare in Italia e qua Pescara era mi piaceva tanto avevo ancora una settimana per decidere perché ero svincolato però niente quando ho avuto questa proposta l'ho colta subito cosa ti ha detto mister Oddo no ancora abbiamo parlato poco solo che prima mi ha spiegato bene mi ha detto che c'è un gruppo che ha voglia soprattutto quello conta tantissimo e niente adesso bisogna dimostrarlo durante il campionato arrivi in una piazza importante che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A Pescara che vuole riprovarci quest'anno sì è giusto così quando vai vicino una volta è giusto che provi questa squadra può darsi che si sia anche rinforzata quest'anno ci sono altre squadre che vorranno andare in Serie A non possiamo dire noi che lo faremo perché è quasi un po' presuntuoso però provarci è un obbligo qualche giorno fa proprio nelle ultime ore di mercato quando è uscita fuori questa voce dell'arrivo di Campagnaro a Pescara qualcuno pensava ad uno scherzo cosa ci fa uno come Campagnaro in Serie B questa è una grandissima piazza io vengo qua a dare il mio contributo speriamo tutti quanti di far bene fare un bel gruppo correre tanto e vincere le partite Pocca Lupo a Campagnaro per questa nuova avventura in maglia bianca azzurra siamo a Lanciano core e bandiere in mille salutano la nuova Virtus e poi Lega Pro Terra Malconi oggi forse no come dicevamo in giornata attesa la decisione del collegio di garanzia sulla richiesta di bloccare i campionati e poi Bartolome verso il Livorno in arrivo diversi baby bianca azzurri e poi la nuova Serie D in questa in questa pagina del quotidiano il centro perché domenica partirà il torneo con Chieti e San Nicolò che proveranno ad inserirsi nella lotta al vertice chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero lo faremo tra qualche istante siamo comunque davvero in chiusura tra l'altro vi ricordo che domenica partirà il campionato di Serie D ma partiranno anche gli altri tornei la Serie B e anche la Lega Pro ma non giocherà il Teramo perché è stata rinviata proprio per i motivi che abbiamo più volte seguito negli ultimi giorni proprio la gara in programma fra i Biancorossi e l'Ancona Pescara sogno la Serie A Campagnaro che si presenta abbiamo visto l'intervista Oddo sicuro obiettivo minimo i playoff e poi un bagno di ottimismo per la Virtus Lanciano Teramo un trist in arrivo De Vito Monni e Vitturini dunque il Teramo pesca in casa del Pescara Proger buon test contro Falconara per il basket per il calcio a 5 Pescara prove tecniche di Supercoppa sono le 7 e 59 minuti anzi le 8 proprio in questo istante siamo giunti al termine di mattino 6 grazie come sempre per averci seguito vi ricordo alle 14 la prima edizione del TG6 buona giornata Musica Musica produzione Grazie a tutti.